Sì, anch'io volevo salutare i rappresentanti dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani e tramite loro l'Alto Commissario Bachelet. Devo dire che non è senza un certo imbarazzo, tuttavia, che noi riceviamo la loro visita perché essendo l'Italia la culla del diritto, essendo qui nato il diritto moderno come lo conosciamo, essendo questa la patria di Cesare Beccaria, la patria della tutela del cittadino anche più debole, anche quello nella situazione più complicata e più difficile, il fatto che comunque un ufficio così alto, così importante, così autorevole come l'Alto Commissariato per i Diritti Umani decida di mandare una sua delegazione nel nostro Paese è naturalmente un fatto che non può non sollevare qualche perplessità. Io devo dire che ho apprezzato il fatto che dall'Alto Commissariato siano venuti sempre messaggi molto tranquillizzanti come questa fosse una visita di routine e tuttavia chiaramente io non riesco a considerarla una visita di routine. Credo che appunto il fatto che voi siete venuti qui significa che a livello internazionale si esprimono preoccupazioni per quello che è il linguaggio di odio e in particolare ciò che più preoccupa è che questo linguaggio di odio non si stia diffondendo soltanto nella popolazione in generale ma che questo abbrivio, questo andazzo si stia verificando sulla base del fatto che dalle classi dirigenti, da chi quindi ha la responsabilità di gestire politicamente il Paese e di dare come io credo sempre succede a chi ha responsabilità così importante un po' il senso del buon esempio, il senso di quello che diciamo anche moralmente eticamente fare è proprio da lì che sta arrivando un messaggio diseducativo al resto della popolazione. è chiaro che l'uomo o la donna medi se sentono persone che hanno responsabilità apicali, responsabilità di vertice all'interno del Paese sdoganare un certo messaggio può legittimamente sentirsi autorizzato o autorizzata a utilizzare lo stesso messaggio ed è una preoccupazione secondo me di non trascurabile entità perché come spesso dico quando il dentifricio viene spremuto fuori dal tubetto diventa difficile rinserirlo cioè nel momento, per dirlo in parole più eleganti, nel momento in cui si dà un esempio e si dice che un comportamento è moralmente eticamente legittimo è poi doppiamente difficile spiegare che c'eravamo sbagliati e che un linguaggio che sia appunto offensivo, che sia escludente, che sia anche soltanto verbalmente violento non dovrebbe essere ammissibile in una comunità civile soprattutto in un Paese appunto importante dalla civiltà giuridica così rilevante come l'Italia. Io voglio segnalarvi ai fini dei vostri lavori che noi tuttavia in Italia abbiamo un'importante legge che si riferisce proprio al discorso d'odio e che quindi punisce con sanzioni penali i discorsi di odio legati appunto alla xenofobia, all'antisemitismo in generale alla nazionalità e alla religione. È la legge che noi definiamo legge Mancino dal nome dell'ex ministro degli interni che all'epoca ne fu uno dei promotori ed è una legge che recepisce con modificazioni la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale che fu fatta a New York il 7 marzo del 1966. La convenzione viene recepita nell'ordinamento italiano nel 1975, poi nel 1993 viene approvata la legge Mancino quindi questa legge contro i discorsi di odio. Devo dire che è una legge che spesso è stata attaccata da taluni parti politiche in Italia, di tanto in tanto sentiamo anche esponenti politici di primo livello affermare che la legge Mancino sia una legge che limita il diritto di opinione, cioè si tende a confondere il discorso d'odio con la libera espressione delle opinioni, come se offendere qualcuno e utilizzare termini escludenti nei confronti di una minoranza rappresentasse una qualsiasi opinione che va liberamente espressa e quindi tutelata. Di conseguenza spesso sentiamo dire cose di questo genere. Io voglio segnalare, perché mi sembra un fatto, io adesso non voglio connotare dal punto di vista di parte però i fatti storici non possono neanche essere negati o nascosti, che il 14 gennaio di quest'anno il Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana, quindi un'alta autorità dello Stato è stata condannata a un anno e mezzo di reclusione dal Tribunale di Bergamo per aver definito l'ex Ministra Cecil Chienghe, che è la prima donna di colore che sia pervenuta a un ruolo di governo in Italia, per aver detto che l'ex Ministra Chienghe gli ricordava un orangotango un primate, diciamo, una scimmia di grandi dimensioni. Ripeto, si tratta non di un passante che ha espresso queste opinioni, ma del Vice Presidente del Senato recentemente rieletto alla carica segnalo anche che è il più eletto tra i Vice Presidenti del Senato. Segnalo anche che sempre al Senato della Repubblica la Presidente della Commissione Diritti Umani che è stata recentemente eletta con i voti della maggioranza di governo, quindi eletta al primo scrutinio, credo, molto rapidamente, è stata anch'essa, diciamo, protagonista di un processo penale poi archiviato, ma anche lei è stata, diciamo, indagata per istigazione dall'odio razziale. Ora capite che scegliere come Presidente della Commissione Diritti Umani una persona che, sebbene archiviata, cioè sebbene il provvedimento penale sia stato concluso senza luogo a procedere, abbia comunque interessato la magistratura a aprire un fascicolo per istigazione dell'odio razziale, significa dare un messaggio al Paese che la Commissione Diritti Umani di fatto non serve a niente, perché se io prendo una persona che con i propri comportamenti ha negato quei valori e la metto a presiedere quella Commissione, è un po' come dire è una Commissione inutile, diventa un po' uno sberleffo, diventa un po' una burla rispetto a chi invece pensa che i diritti umani siano una questione estremamente importante. Segnalo sempre a proposito della legge Mancino che sono ormai, direi, decenni che il Parlamento o almeno talune forze del Parlamento provano ad allargare l'ambito di applicazione della legge Mancino. Come ho detto la legge Mancino punisce i discorsi di odio nei confronti di xenofobia, antisemitismo, nazionalità e religione, ma non protegge le persone dal diverso orientamento sessuale, diciamo sulla base del loro orientamento sessuale o della propria identità di genere. Questo significa che talune espressioni che l'ordinamento riconosce come reato, come crimine, se espresse nei confronti di una persona a causa della nazionalità, dell'etnia o della religione, le stesse espressioni, proprio le stesse medesime espressioni sono perfettamente legittime se dirette verso una persona omosessuale, bisessuale o transessuale. Le donne poi c'è anche un'altra, però non sono una minoranza, anzi sono la maggioranza le donne. E quindi nonostante si sia approvato in più occasioni, la opposizione all'allargamento di questa legge a protezione delle persone LGBTQI è stata fieramente, ha trovato un'opposizione fiera da parte di larghissimi settori dell'opinione pubblica che ancora una volta hanno sostenuto la tesi che la omofobia sia in realtà espressione di una libera opinione. Cioè utilizzare linguaggi anche verbalmente violenti di esclusione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e trans è considerata da una larga parte della popolazione e sicuramente da una larghissima parte del ceto politico, tant'è che non si riesce ad arrivare all'approvazione di una legge in questa direzione, una espressione di una libera opinione. Quindi potete capire quale sia anche la qualità della vita che si trovano ad affrontare le persone LGBT nel nostro Paese. Aggiungo l'ultima cosa, come voi avete avuto occasione di incontrare l'UNAR che si chiama, l'acronimo di UNAR sta per Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Quindi già nel nome c'è scritto che in realtà l'UNAR è stata creata soltanto per avere a che fare con le discriminazioni basate sulla etnia, come preferiamo dire in italiano, perché il concetto di razza ci fa fatica rispetto agli esseri umani, quindi non suona giustamente bene. Però l'UNAR ha di fatto negli anni allargato il suo ambito di azione anche ad altro tipo di discriminazione, ma sempre in modo un po' ufficioso, quindi non in modo ufficiale, essendo per questo spesso accusata, data l'UNAR e forze politiche, di andare al di là del proprio compito e essendo spesso minacciata da forze politiche presenti in Parlamento della necessità di chiudere l'UNAR, al contrario di quello che invece io credo si dovrebbe fare e immagino che, come voi sapete benissimo, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione, proprio perché un'autority che dovrebbe controllare la politica e controllare il Governo, dovrebbe per sua natura essere totalmente indipendente dal Governo, perché è chiaro che un'autority che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha molta difficoltà a poter fare da difensore di chi magari è vittima di posizioni discriminatorie che derivino direttamente dall'autorità di Governo. Quindi io penso che una delle cose sulle quali veramente bisogna insistere e dare all'UNAR la possibilità di agire in modo da essere indenne da ogni pressione che derivi dal potere politico e quindi in questo senso il mio invito è esaminare anche questo aspetto nel vostro lavoro. Quindi vi ringrazio ancora per essere qui, credo che la situazione che vi trovate ad affrontare sia una situazione complessa. Il Paese è, ripeto, un Paese che per sua cultura è storicamente ed è riconosciuto tutto il mondo come uno dei Paesi più accoglienti del mondo, dove la popolazione è famosa per la sua affabilità, per la sua umanità, per la sua tradizione di accoglienza e di apertura. L'Italia è stata anche per la posizione centrale nel Mediterraneo, è stata casa di molti popoli che ci hanno invasi e che hanno lasciato un pezzo della loro cultura. Gli italiani hanno tutti i colori di occhi e di capelli possibili ed immaginabili proprio perché siamo stati per tradizione un luogo di passaggio di tanti popoli e questa è forse una delle grandi ricchezze del nostro Paese, per cui devo dire off-chiuso. È chiaro che una situazione come quella che vi conduce qui in quest'Aula rattrista doppiamente proprio perché va contro quella che è la cultura, la tradizione del nostro Paese.